ecco la regata costiera un paio e la collina ah la collina è un promontorio ecco la regata siamo partiti oltre in ritardo per colpa di una giuria che è molto utile però abbiamo recuperato direi su tutti non c'è più nessuno abbiamo sorpassato questo è un first 40.7 questa è la scia vento sui 15-29 i i i i i i i a